Ciao, siamo Andrea del Quarto e Mauro Borrello e ora presenteremo il progetto di informatica con Arduino, chiamato Magazzuino. Il nostro progetto è costituito da un carrello semovente che si muove su binari, mosso da un motore passo passo e con una piattaforma su cui viene caricato l'oggetto mosso da un motore in corrente continua accoppiato a una barra filettata. Il nostro magazzino è costituito da una matrice fatta da 4 box su cui sono presenti dei magneti che identificano la loro posizione e delle fotoresistenze in mezzo al piano che consente al sistema di capire se il box è occupato o meno. In questo momento infatti abbiamo l'indicatore del box numero 1 che identifica lo stato di occupato e possiamo vedere l'oggetto caricato. Iniziamo col provare la funzione principale del nostro progetto che è quella appunto di stoccaggio di oggetti e ora vedremo che dato che il primo box è occupato automaticamente il sistema andrà a caricare l'oggetto nel box successivo. Quindi inseriamo il primo elemento, lo chiamiamo primo, confermato l'inserimento dovrebbe partire il caricamento. Ok, possiamo procedere al secondo oggetto. Il nostro oggetto viene caricato. Terzo e ultimo oggetto. Confermiamo l'inserimento. Ok, e ora verifichiamo la seconda funzione del sistema che è quello di ricercare un oggetto all'interno del magazzino. Dunque se noi inseriamo il nome dell'oggetto compare il numero del box corrispondente nella quale è caricato il nostro oggetto.